3 4 5 6 8 8 9 10 12 13 15 15 16 15 17 18 19 19 20 21 23 24 27 21 22 22 23 24 28 29 29 30 29 29 30 30 30 31 31 30 31 32 32 33 34 34 34 35 Grazie a tutti.